buongiorno oggi puntata speciale lo vedete accanto a me il professor raffaele morelli psichiatra psicoterapeuta direttore di rizza psicosomatica bentornato grazie grazie allora l'ho invitato perché abbiamo bisogno di lui una volta al mese io credo che lei possa fare il nostro integratore per aiutarci a superare quei piccoli e grandi problemi che ci creiamo da sole che ci avvelinano la vita e in questo caso ci dà una mano voglio riprendere un articolo di che appare sul numero di rizza di questo di questo mese smetti di dirti che non vai bene è abbastanza difficile anche perché noi non riconosciamo professore che a dirci che non andiamo bene siamo noi lo vediamo e lo percepiamo nello sguardo degli altri che magari non pensano neanche a noi ma abbiamo in qualche modo sempre bisogno che qualcuno ci dica bravo perché noi non riusciamo a dircelo professore allora partiamo da questo ragionamento questo numero di rizza che ne dico l'adesso è dedicato proprio a questo no come devo stare con me stesso perché noi ci hanno insegnato la matematica il latino ci hanno insegnato il lavoro ma stare con noi stessi non ce l'ha insegnato nessuno e allora ognuno di noi se stiamo attenti ha sempre un pensiero prevalente no cioè io non vado più d'accordo con lui oppure lei non mi va più bene oppure ma io voglio cambiare lavoro con mio figlio sono una buona madre e mettiamo in primo piano sempre qualche cosa che si basa sull'autocritica questo che cosa fa nel cervello sposta sposta tutta l'energia cerebrale in un'unica direzione facci caso nicoletta no quando tu hai un problema tu non pensi che ci sono tante altre cose dentro di te è vero pensi sempre al problema no certo perché le altre cose vanno e vanno e lì si commette il primo errore ho un problema ne parlo con qualcuno ne parlo con la mia amica ma il problema in realtà è venuto da te secondo step lo devo mandar via il disagio che mi porta questo problema il fatto che per esempio ho una crisi matrimoniale o di relazione io lo devo mandar via devo risolverlo il punto chiave della questione è che invece bisogna imparare a dire io sono quella che ha questo problema sono la persona che è insoddisfatta sono la persona che non si sente realizzata guardare il problema e dire bene adesso io mi occupo di altro per esempio mi metto a immaginare sai che se tu chiedi al 90 per cento delle donne nicoletta di chiudere gli occhi potete che lo facciamo in diretta lo possiamo fare anche voi fatelo anche voi potete chiudere gli occhi no e immaginare una scena della vostra vita una scena in cui eravate veramente sorridenti felici guardate cosa stavate facendo una scena di 12 anni fa 10 anni fa 15 anni fa cioè immaginare una scena in cui tu sei veramente a tuo agio e sorridi hai trovata ecco vedi nicoletta per trovare queste immagini ci vogliono 10 secondi nel 90 per cento delle donne a cui chiedi di immaginare una scena della loro vita in cui fanno un'azione che le rende felici sai cosa fanno le donne ballano danzano dentro il cuore profondo del cervello di una donna c'è una danzatrice uno dalisca una donna che balla per un uomo una donna che balla per le amiche una donna che danza tieni presente che la danza è presente in tutte le grandi tradizioni religiose per esempio nell'ebraismo come una via che distacca i pensieri porta verso il sacro verso l'immenso ecco allora se dentro di me c'è qualcosa che immaginando si distrae dal problema quel qualcosa che si distrae è la via della soluzione i bambini noi dobbiamo imparare dei bambini perché i bambini sono tra i pochi esseri che usano bene il cervello i bambini quando c'è un problema non fanno come noi che ci pensano giorni mesi anni piangono disperati dopo un minuto di passe si mettono a ridere oppure vanno a letta a dormire perché perché l'oblio spazza via il pensiero oppure fanno la cosa più importante che dobbiamo fare noi si distraggono cambiano cambiano direzione si mettono a giocare perché giocando entrano in un regno dove non c'è il tempo dove si esce dal tempo si entra in un'altra dimensione allora quando c'è un problema quando pensi che c'è una decisione da prendere la cosa importante è dire il problema è lì io non ci devo pensare mi metto a immaginare a fantasticare come abbiamo fatto adesso no con le persone dicendo immaginati una scena della tua vita che ti piace e io ho pensato proprio al ballo pensa pensa tu ma tu mi hai parlato di donne negli uomini funziona in modo differente le donne hanno un'elasticità no quando tu dici io ho pensato proprio al ballo dovremmo chiederci cos'è il ballo che cos'è è un'immagine femminile collocata in un altro tempo fuori dal tempo i greci avrebbero detto una dea che scende in campo l'energia dell'immaginazione non è l'energia del pensiero questo bisogna averlo ben chiaro quando c'è un problema più ci pensi più lo complichi se cominci a immaginare ne esci gli uomini perché fanno più fatica perché mentre fin da bambini noi siamo abituati a trasmettere giochi che sono basati sulla performance nell'anima femminile sono presenti dei giochi vedi le bambole dove si danza le si veste le si fa il bagnetto dove in qualche modo emergono quelle che sono le qualità immaginative del femminile cioè le donne hanno l'immaginazione connaturata dentro di loro gli uomini fanno più fatica però gli uomini che sviluppano l'immaginazione che chiudono gli occhi ogni tanto immaginano fantastico sono uomini che possono ottenere gli stessi identici risultati quindi noi dobbiamo proprio cambiare approccio ad affrontare il problema però ci insegnano ci insegnano e tutta la vita che ci insegnano che il problema se si presenta va risolto esattamente il contrario a non occuparcene ci sentiamo anche quasi in colpa esattamente e su tutto questo vuol dire un problema nella sfera sentimentale relazionale affettiva familiare un problema lavorativo a distaccarci abbiamo l'impressione di non essere efficienti di non avere quella prontezza che ci potrebbe permettere di fare la svolta guarda su questa rizza che ne dico da questo mese io parlo moltissimo rizza è scritta da un molti identificano in me rizza in realtà rizza è scritta da un gruppo di esperti sono tutti psicologi psicanalisti psichiatri che giornalisti che hanno ben chiaro una cosa fondamentale come si fa a star bene perché noi non stiamo bene nicoletta stiamo una generazione che non sta bene una cultura che non sta bene siamo molto complicati molto cerebrali siamo sempre lì a rimuginarci a criticarci allora e qui analizzo un colloquio con una signora no è molto bello a quale dice eh dottore sa io sono stata lasciata continua a pensarci e io le dico c'è altro eh sì sono stata lasciata con tre bambini questo mi passa neanche i soldi signora c'è altro eh sì c'è il fatto che praticamente lui si è messo con una che è molto più giovane c'è altro eh sì le mie amiche sparano ma io quando signora quando le chiedo c'è altro io non intendo se c'è altro del problema della storia c'è altro che io domando se ci sono altre donne dentro di lei ah cioè per esempio stamattina quando sei vestita ah sì stamattina mi sono messo un vestito non mi piaceva le donne le fanno così sono tornata a casa mi sono cambiata le donne rispetto agli uomini quando escono di casa e hanno un vestito che non sentono su misura allora non si sentono roaggio torna a casa e si cambiano questa è l'anima femminile no? perché il vestito racconta di noi il vestito racconta di noi e soprattutto il rossetto come ci pettiniamo sai cos'è un farmaco potentissimo per le donne il trucco perché quando una donna si trucca la mente e i pensieri se ne vanno è lì presente alle labbra al sopracciglio è lì presente allo sguardo se noi sapessimo che quando una donna si trucca sta rigenerando il cervello noi non faremmo fretta le donne dai esci che dobbiamo andare dai esci che dobbiamo andare perché nel truccarsi stanno chiamando come avrebbero detto gli antichi l'energia divene ecco adesso una casa sicuramente cosmetica ti ruberà questo perché è chi si trucca rigenera il cervello ma è un prendersi cura un accudirsi io ritorno a Rizza Psicosomatica perché a me è una rivista che ma non solamente a me ha dei numeri straordinari e state facendo come sempre il botto perché lega proprio corpo e mente e tra l'altro tu dicevi non stiamo bene e c'è proprio sul linguaggio del corpo questo mal di schiena quando dipende da troppe responsabilità anche le troppe responsabilità quelle che noi ci prendiamo sono in assolutamente espressione di un modo non salutare di prendere la vita un po' come di quella di affrontare il problema e vedere solo quello il corpo parla il nostro corpo parla no? a volte subiamo dei danni fisici legati a dei problemi organici i batteri i virus no? altre volte abbiamo dolori che sono legati a dei movimenti a dei disturbi muscolari a dei traumi molte volte però questa è la psicosomatica molti dei nostri disturbi tipo il mal di schiena di cui parliamo in questo numero di Rizza sono legati a un modo di stare con te stesso no? dai stai su quelle spalle dicevano una volta no? dai forza no? non mi piace così molle no? e noi abbiamo creato una cultura sempre del dirigersi del dirsi come dobbiamo essere dove dobbiamo andare e cosa fare no? e quindi essere sempre prevalentemente lì no? nella forza e non capiamo una cosa importante io mi sono occupato tantissimo del pensiero cinese perché il taoismo che è stato un pensiero antichissimo 2500 anni fa è forse quello che ha insegnato a tutto il mondo la vera psicologia Jung diceva che se uno psicanalista non ha letto il tao non può fare questo lavoro e io sono perfettamente d'accordo il taoismo su cosa si basa? ecco insegnaci ci insegni a prendere magari due informazioni che possiamo fare nostre allora la prima e la cosa più importante è cedere quando c'è un disagio un giorno vi porto qualche mail da leggere delle persone che ci scrivono quando c'è un disagio la prima cosa da fare è dire dov'è il dolore non pensare alla causa porta tutta l'attenzione solo sul dolore e perditi nel dolore ad esempio posso fare la cosa io quando ho una preoccupazione la racconto a me e magari non so mia mamma o un'amica cara mi sento il cuore sbucciato bravissimo mi vedo il mio cuore perché tutti noi abbiamo problemi più o meno seri magari sono piccoli li vediamo in quel momento per una serie di cose con grande intensità io mi sento il cuore ecco come quella specie di mandolina delle verdure che mi passa su e giù mi sento sbucciato il cuore questo mi fa sanguinare però in effetti e questo l'ho imparato da te perché l'altra volta avevi proprio così detto localizzate dove è il punto mi mi provo con dolore ancora più oculto ma sento che poi si rilascia questo è un concetto antichissimo che imperniava un po tutte le tradizioni quando c'è un dolore non pensare alla causa non pensare sto male perché quella cosa mi preoccupa no io voglio sentire il dolore nel corpo in che punto è sul petto sulla pancia ognuno ha un punto in cui il dolore si riflette lì lasciarlo espandere allora la preoccupazione va sullo sfondo e tu sei tutto concentrato sul dolore se stai attento dopo un po vedrai che il dolore viene sostituito da uno stato di vuoto il vuoto è il più potente farmaco del cervello il cervello produce da solo i farmaci uno è il silenzio dice io adesso voglio sentire il mio disagio ma voglio stare nel silenzio totale il silenzio il vuoto sono due meccanismi fondamentali e il tre il cedere non opporsi mai opporsi ai disagi c'è un'emozione che arriva che non ti piace la tristezza bene non pensare a cosa l'ha causata dici tristezza vieni pure e siediti qui con me Jung che è stato un grandissimo io una cosa che faccio in psicoterapia in psicoterapia quando qualcuno viene da me e mi vuole raccontare la sua storia dico guardi non me la racconti non perda tempo Jung faceva così non voglio sapere di suo padre ma non mi interessa quello che mi interessa è vedere che cosa lo caratterizza vedi Nicoletta puoi avere l'amore giusto o l'amore sbagliato puoi fare più soldi o meno soldi puoi fare le vacanze giuste o sbagliate ma una cosa è certa che le tue inclinazioni le tue capacità di giornalista di conduttrice eccetera quelle ti appartengono se le perditi a mali è molto più importante della vita realizzarsi nel lavoro mica deve essere forse un lavoro importante ma qualcosa in cui tu sei preso come ogni bambino è preso dal suo gioco dal suo gioco non dal gioco di un altro quello è il più potente farmaco che esiste è più importante dell'amore è più importante delle relazioni lei tua la tua inclinazione perché la tua inclinazione non è il tuo destino allora Goethe dice com'è la tua vita e qualcuno risponderebbe ma si viva acchia si va avanti ce la facciamo andar bene ma tu stai seguendo il tuo destino perché una quercia che non facesse la quercia sarebbe un aborto idem una rosa che non facesse la rosa tu stai seguendo il tuo destino e come lo sai se stai seguendo il tuo destino non lo sai certamente perché te lo dici tu lo sai perché delle radici interiori come le piante noi abbiamo delle radici interiori che chiamiamo inconscio ci stanno guidando e ti accorgi che le cose che fai vengono naturali spontanee gli amori gli incontri sono naturali sono spontanei non perché li hai forzati meno forzi e più tutto si mette a posto da solo questa è la saggezza che il pensiero cinese ci ha trasportato e ci ha insegnato dicendoci tu rifugiati nel nulla perché il nulla più poteri ha più saperi del pensiero mai prendere decisioni mai quando c'è un disagio mai mai perché in quel momento siamo intossicati esattamente bravissima puoi fare io sono morellesca e sì perché quando sei intossicato tu reagisci da intossicato allora dice ho scoperto che lui mi tradisce adesso lo lascio no ho scoperto che mi tradisce sento il dolore e poi si vedrà cioè non bisogna mai pensare sui dolori perché il pensiero li cronicizza quando noi il pensiero è importantissimo per lo studio per il lavoro per gli appuntamenti per le relazioni per studiare è importantissimo ma il pensiero è il nemico delle emozioni Bachelard diceva che quando tu stai sentendo il pensiero lo blocca subito quindi se tu ti metti a ragionare sulle emozioni sui sentimenti sulle azioni da fare tu entri in una palude e diventa cronico questo bisogna saperlo bene e ne parlate anche nel anti age perché smetti di rimuginare il cervello ringiovanisce allora anti age è l'altro giornale il giornale che ha avuto più successo quest'anno di tutto il gruppo Rizza ed è un giornale che anche è fatto oltre a essere fatto bene tocca un tema che nessuno ha mai avuto il coraggio di toccare in un modo creativo positivo costruttivo sdoganandolo da tutti quei bollini avete fatto della maturità una quella che secondo me forse sono di parte l'era proprio d'oro l'estate allora la maturità è l'era d'oro dell'uomo e della donna è l'era d'oro ecco ed è l'era in cui si possono finalmente raccogliere i frutti una donna può dire di essere tale non prima dei 40 anni dispiace per quelle più giovani certo noi siamo appena nati per esempio la menopausa per molte tradizioni era l'era della autorealizzazione perché perché la via sessuale e la via genitale si separano quindi puoi finalmente farlo amore senza il timore di restare incinta e puoi soprattutto la cosa importante è che il cervello nella maturità ha imparato a star con te ha imparato a eliminare le persone inutili oggi mentre prima frequentavi tutti adesso questo no perché non lo sopporto questo no ma mio marito vorrebbe ma io non voglio ha imparato a fare le cose che ti piacciono e a rispettarle e soprattutto ha imparato a smetterla di criticarti perché perché tu devi immaginare che nel cervello ci sia e questo è il senso di questo giornale anti age ci sia una linfa un'energia creativa una sorgente di giovinezza oggi le neuroscienze confermano tutto questo c'è in me qualcosa che mi rigenera c'è qualcosa che rigenera la nicoletta la ringiovanisce continuamente il problema dove andremo a finire tra qualche settimana ha trovato un bebè il problema cos'è che tu continui a dirti come deve essere la tua giovinezza tu non vuoi restare giovane tu vuoi assomigliare l'idea della giovinezza omologata ecco perché perché vedi tutte queste donne con le labbra rifatte gli zigomi rifatte che sono tutte uguali tu non sei uguale a nessuno se sei uguale a un altro block notice la mattina ti svegli e ti dici oggi io devo cercare anche per 30 secondi di non assomigliare a nessuno se non somigli a nessuno comincia a essere tu invece il 99 per cento delle cose che facciamo dai vestiti a come camminiamo alle parole che diciamo sono sempre figlie del fatto che stiamo imitando allora la giovinezza la giovinezza vera che tocca le aree del cervello più antiche sono le aree dove non c'è limitazione c'è la spontaneità le persone spontanee restano giovani fanno l'amore fino a 80 anni e hanno un grado di felicità che non hanno le persone che in qualche modo si guidano che recitano che sono delle caricature la caricatura invecchia la donna spontanea naturale ringiovanisce su questo giornale su anti age io ho voluto che portassimo stanno arrivando tantissime lettere le storie di donne che ce l'hanno fatta dopo i 50 anni non prima dopo i 50 anni perché si è creata quest'idea malata che le risorse col tempo vengano meno no vengono altre risorse vengono altre risorse dice ma la memoria viene meno a 60 anni viene meno no non è che viene meno è che la pianta sta buttando via le foglie secche non ti servono più chi è che ha detto che devi vivere di ricordi chi è che ha detto sono importanti ricordi che arrivano spontanei no mi è venuta in mente mia mamma che mi diceva una signora mi ha detto dottore il mio rapporto era terrificante una notte ha sognato mia mamma che è morta e mi ha detto vieni via per favore vieni via per favore il mattino ho sentito una pace e mi son detta io devo venire via da questa storia stava con un uomo molto aggressivo ed è venuta via è venuta via la sua vita è cambiata da così e così cosa è stato importante che ha ascoltato un'immagine dentro di lei perché i sogni sono immagini no noi ecco la giovinezza dove sta nel mondo immaginativo chi chi sono veramente giovani i bambini e i bambini cosa fanno fantasticano immagino fiabizzano noi se spegni i sogni spegni la giovinezza e ce li facciamo anche spegnere i sogni perché mo siamo molto condizionati anche da dal parere delle del degli altri delle persone con cui lavoriamo con cui stiamo in cui cerchiamo quella linfa che forse dentro di noi non troviamo più e che pure c'è e che pure c'è se tu osservi la natura e guardi una pianta no se sei se sei attenta bene il momento del germoglio non è che compare una volta continua a ricomparire certo si formeranno altri germogli allora la domanda è se dentro di noi esiste una forza germogliante e deve esistere per forza perché tutto il nostro corpo si rigenera ogni tre mesi il nostro corpo è completamente nuovo i neuroni del cervello aumentano le sinapsi le modificano no noi abbiamo iniziato la nostra diretta facebook mezz'ora fa venti minuti fa il nostro cervello già cambiato qualche centinaia di milioni di volte no e non ce ne siamo neanche accorti allora è vero quello che tu dici no che se sto con persone che mi intossicano io mi intossicano ma il problema più grande non è tanto che mi intossico quanto che io non vedo più non vedo più le qualità le capacità i destini che ho e che non sto attivando se non li attivo si disattivano quindi c'è una giovinezza che per trovarla bisogna che tu ti distrai dall'idea che ti sei fatto di te una parola da non pronunciare mai più è oramai ma come oramai adesso ci sono opportunità che a 30 anni non ci sono perché adesso hai la testa hai la testa per goderti certe cose di te che prima non ti godevi quindi mai un mai dire oramai mai lamentarsi mai lamentarsi mai parlare con gli altri dei tuoi problemi se non una persona sola intima no e soprattutto la cosa più importante è immaginare fantasticare distrarti no e vedi quando una donna si veste non si sta vestendo maria giovanna michela si sta vestendo una dea idem quando si trucca abbiamo detto prima no c'è qualche cosa di misterioso che sta funzionando dentro di me vedi le donne omologate sono tutte uguali le vere donne hanno la bellezza dentro e sono misteriose se un uomo va con una donna omologata è un uomo infantile banale cancelliamoli non abbiamo bisogno un uomo in una donna deve trovare il mistero nel mistero c'è il desiderio nella mente omologata nella donna omologata non c'è c'è la caricatura quante donne vedi che sono magari molto seduttive vestiti molto scollatici ma non sono seduttive perché perché sono artificiali sono finte sono omologate poi vedi donne semplici no un tocco di trucco e nel vestito c'è un erotismo perché perché sono sedute dentro il loro femminile allora vuoi sapere che cos'è il più potente farmaco rigenerativo il femminile femminile io vorrei dire una cosa molto importante quando si dice femminile uno dice le mestruazioni sono nell'utero si sbaglia le mestruazioni sono anche nell'utero le mestruazioni vengono dal cervello dalle aree antiche del cervello dove delle energie bioelettriche trasformano queste energie in ormoni che si trasformano in mestruazione in ovulazione eccetera eccetera il latte da dove viene il latte dal cervello ora tu pensa che quando una donna partorisce nelle aree più profonde del cervello il femminile produce una sostanza il latte questo latte non c'era nel mondo prima dei mammiferi ma i mammiferi sono la notte dell'uomo l'essere più evoluto del mondo l'uomo si nutre di latte ma questo latte nel profondo è un'energia gli antichi così dicevano c'è un'atena la maria dei cattolici c'è un'energia femminile che si fa latte ma allora se c'è un'energia femminile che si fa latte c'è un'energia che provvede a me c'è qualcosa dentro di me che sa dove portarmi sa dove andare indipendentemente da cosa penso da che opinioni ho che visione politica ho c'è qualcosa dentro di me che sa dove portarmi e cosa cosa posso fare per far sì che questa signora della provvidenza che mi abita mi porti e devo fare una cosa importante smettila di dirmi se vado bene se non vado bene fidiamoci di noi perfetto fidarsi di se stesso io volevo chiederti anche due altre cose perché hai riportato la forza quanto può essere forte recuperare delle immagini e dei sogni ci sono tante persone che non sognano meglio che non ricordano i loro sogni perché voi ci dite che tutti noi sogniamo anche quando al mattino ci sembra di non aver sognato perché c'è questo blocco posso riattivare i sogni ricordare i miei sogni se sono così importanti anche a indicarmi un po' una direzione a creare un po' un balsamo per quelle stati così a volte faticosi da portare avanti il pari di riserva è Rodomo Dossola lo so un grande successone un pubblico di mille donne praticamente soprattutto donne ma perché tu ti rivolgi alle donne perché hai capito che è lì la vita mi rivolgo alle donne e agli uomini che vogliono sviluppare in sé il femminile perché un grande uomo un grande uomo è grande quando sa coniugare è vero entrambi i lati dolcezza tenerezza sono parti integranti dell'uomo se noi insegnassimo nelle scuole che la dolcezza la tenerezza le carezze nei confronti del femminile sono dei meccanismi evolutivi noi evolviamo evolviamo nella tenerezza nell'affettività sessuale non soltanto una performance il sesso come performance è un sesso pericoloso il sesso come gioco come piacere dell'altro come condivisione e anche come forza se volete è ciò che permette al cervello di evolvere allora in noi esistono meccanismi sconosciuti che ci fanno evolvere fra questi ci sono i sogni a Domodossola io ho parlato tantissimo dei sogni ho portato soprattutto dei sogni di miei pazienti o dei sogni che arrivano a in redazione da antiegi a rizza di persone che non sognavano allora io consiglio questo quando non ti ricordi i sogni perché i sogni continuano tutte le notti tu fai 20 minuti di sogno ogni ora un quarto ore 20 sogno poi noi diciamo sogno cos'è un sogno ho colto un frammento no ma in realtà ai centinaia di miliardi di frammenti frammenti a cui cerchiamo di dare un senso ma perché abbiamo i sogni per quale motivo chi ha creato il mondo ha creato il cervello coi sogni perché ha creato il sonno per rigenerarsi si è vero ma perché le immagini che bisogna c'era di 20 minuti di immagini di miliardi di triliardi di immagini allora forse dovremmo incominciare a ragionare così che c'è dentro di me qualcosa che non ragiona come me che non vive nel tempo uscire dal tempo porta a delle capacità di metamorfosi di cambiamento di trasformazione che il pensiero neanche può comprendere ecco perché i bambini quando giocano giocano fino a sfinirsi ecco perché i bambini quando un bambino gli dice ma dai stai attento il bambino si distrae perché si distrae perché rigida nel cervello perché entri in un regno dove non c'è il tempo questo è il sogno immagini che appartengono a un regno senza il tempo immagini che cosa hanno bisogno perché ci parlino è che ci allontaniamo un po dal pensiero razionale allora la sera quando vai letto prendi un block notice e prova a dire signora della notte la notte è un'energia signora della notte mi manderesti un sogno stanotte poi ti metti sotto le coperte ti addormenti 1 2 10 giorni 20 giorni non succede niente prima o poi arriva un sogno però e quel sogno sai cosa fai lo tieni lì con te non cerchi di spiegarlo lo tieni lì con te poi arriveranno altri sogni i sogni parlano al di fuori del pensiero razionale e dottore ho sognato mi diceva l'altro giorno la mia paziente ho sognato che io ero lì e davanti a me c'era una donna aquila che volava e io mi avvicino e lei mi allontana mi avvicino e lei mi allontana mi sveglio e faccio un altro sogno c'è una farfalla azzurra bellissima con delle ali spiegate io la guardo dico ma che magia e allora prendo la videocamera per fotografarla lei mi mi spinge via non vuole che io la fotografi ora mi dice ma cosa vuol dire questo sogno allora la donna aquila rappresenta te che voli in alto no te che voli in alto c'è una donna che vuol volare ma c'è una donna che la tiene ferma che la tiene a terra la donna normale non abituale la donna sposata mentre c'è un'aquila che vola ci sono altre altezze che devi e la farfalla la farfalla è la psiche la metamorfosi la farfalla chi direbbe chi direbbe se non lo sa che da un bacco esce una farfalla chi lo direbbe e la farfalla che non vuole essere fotografata perché non vuole essere vista con l'occhio comune con l'occhio banale con l'occhio di tutti i giorni e allora dentro questa donna c'è un'aquila una farfalla che la stanno conducendo anche se lei ancora resiste ecco i sogni ci dicono questo fra l'altro non solo però i sogni basta ricordarli un attimo perché non c'è svolta loro funzioni terapeutiche non c'è bisogno di spiegarli cosa che invece noi cerchiamo di fare perché ci interroghiamo che cosa vorrà dire c'è chi proprio l'accantone c'è chi invece vuole cercare di venire a un così a dare un'indicazione un altro aspetto che volevo condividere con te è il pianto che a volte liberatorio a volte invece è in qualche modo ci legano in ci fa un po' annegare nella nostra malinconia di cui magari anche ci vergogniamo allora ti cito uno dei più grandi saggi che ha avuto il mondo bal shem tov di una corrente ebraica cassidica molti molti ebrei pensarono che lui fosse uno il più grande messia che era mai esistito e bal shem tov dice che maestro ma qual è un pianto che funziona una bella domanda no com'è un pianto che funziona e lui risponde con delle parole che solo i grandi hanno se piangi per la casa che ti hanno bruciato perché ti hanno rubato la macchina è un pianto scadente le lacrime vere lui dirà essendo un profeta quelle che piacciono a dio sono le lacrime senza motivo ecco quelle che vengono ogni tanto a me ecco perché vengono allora cosa sono le lacrime guarda che noi non vediamo le lacrime sono salate le lacrime vengono sono vicino agli occhi le lacrime sono acqua che esce dallo sguardo sono sottili come sottile il femminile le lacrime sono femminili non è senso che gli uomini non piangono ma ci vuole le lacrime sono l'onde del mare femminile che portano via la tristezza no ma arrivano spontaneamente in quanto stanno rigenerando un nostro modo di essere tu quando piangi in quel momento non pensi sei su un altro piano no e quindi sono principi rigenerativi del profondo della psiche del sottile dell'immagini liquide bravissima bravissima immagini immagini liquide ho messo insieme l'immagine che tu hai indicato come un percorso per prendere un pochino le distanze molte donne quando hanno l'orgasmo piangono gli uomini si spaventano perché pensano piangono perché sono tristi no piangono perché sono entrati nel regno profondo della liquidità femminile sottile della psiche e le donne che piangono spesso si colpevolizzano in realtà è un atto fondamentale non è che si deve piangere per forza no certo della relazione col femminile noi siamo abituati a trattare come inferiori no cose che in realtà ci abitano e che sono dei meccanismi che ci fanno andare avanti procedere diventare esseri più maturi e ci educano dicendo dai non piangere ecco in fondo ci sono tante cose che noi impariamo fin quando da quando siamo piccoli che in qualche modo ci portano lontano dal nostro benessere il giudizio che abbiamo le lacrime che non versiamo i problemi che affrontiamo in un modo in un con un approccio sbagliato allora in questa chiacchierata con raffaele morelli che ringrazio perché è sempre un balsamo al cuore io vorrei chiuderla con delle indicazioni dei suggerimenti che riassumono un po' quello che tu oggi ci hai raccontato e ci hai fatto vedere perché quando poi lo vediamo capiamo in che direzione prendere ma spesso siamo confusi allora il libricino della notte allora partiamo da questo qualcosa dentro di me sa cosa fare e sa dove andare io no ma qualcosa dentro di me sì due le mie caratteristiche se uno dovesse dirmi cos'è la cosa che fa più male di tutto domare le tue caratteristiche vale a dire dottore io ho un carattere impulsivo ah dottore io sono permaloso l'altro giorno la signora mi diceva io quando subisco una critica mi viene un dolore profondo e allora lotto perché devo essere forte tutte le volte che qualcuno mi critica no 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 io sono quella lì io sono quello lì con quelle caratteristiche lì e quindi mi tengo la mia timidezza così com'è il non voler cambiare è un atto fondamentale per star bene con se stessi e un'altra cosa forse importantissima un altro grande saggio sta in detto il show una cosa che io applico normalmente nella mia vita in psicoterapia non è che le applico con lo sforzo le applico perché fanno parte di noi allora quando gli domandano maestro ma lei come ha fatto arrivare là dove è arrivato cioè che linea ha seguito eh eh bella la domanda che linea ha seguito eh così vengo anch'io e se lui ci ha risposto eh di volta in volta come di volta in volta eh sì di volta in volta perché vedi la tristezza delle otto io la guardo quando arriva mezzogiorno la guardo e non penso mica che sono la stessa tristezza tu dici ho sempre l'ansia ma adesso signora c'è la lansia adesso no allora vedi che non ce l'ha sempre no l'ansia che arriva alle cinque non è l'ansia delle otto è che il tuo sguardo è diventato omologato fai sempre la stessa fotografia allora di volta in volta cosa vuol dire che se io ho un problema con mio figlio e applico la soluzione della volta prima e c'è qualcosa che non va perché devo essere lì di volta in volta e aspettare cosa accade da dentro di me che neanche so ecco quel di volta in volta è qualche cosa che ti deve entrare nel cervello e guidarti io sto reagendo come era agito l'altro ieri ma molti dicono dottore io vengo sempre lasciata non è vero non è vero è che tu dopo il primo addio e il secondo addio tutti gli addivi li trasformi come identici non è vero scusi signora ma questo uomo che l'ha lasciata quest'ultimo come era è un cretino scusi allora lei voleva stare con un cretino no cosa c'entra allora perché togliti dalla mente l'obiettivo tu stai incontrando uno frequenti quello lì di volta in volta si vedrà mentre noi vogliamo una permanenza è lui è proprio lui l'uomo giusto Rossana ma come si veste Rossana no ma hai visto ma hai visto come si veste non è perfetto non va bene per te ma poi Rossana sa bene più di te se va bene per te o no capisci? di volta in volta guardiamoci ogni giorno con occhi nuovi di volta in volta guarda una mia di volta in volta sarà il mio motto una mia paziente è venuta da me poche volte e arriva all'ultimo punto e ascoltati senza il commento di volta in volta perché questa signora fa la manager lavora viaggia eccetera si innamora di uno adesso non entro troppo nel dettaglio quando si riconosca la cosa si innamora di uno e ha letto scintille accadeva però una cosa che lei la notte quando dormiva con lui perché lei viaggiava e anche lui quando si trovava una casa sua lui non abitava nella sua città lei di notte si svegliava sudata in preda al panico cosa che non era mai successa allora andava in cura da una psicanalista che le ha detto eh sa tutto questo è legato al fatto che lei si coinvolge sessualmente molto con questo uomo ma in realtà lei vede nell'uomo il papà che non l'ha mai veramente amata e quindi cerca di fuggire non si devono mai spiegare i propri problemi nella storia cioè dagli psicologi non si va per parlare dei genitori si va per riconoscere quelle che sono le proprie tendenze non per andare a parlare poi su tutte le stesse banalità mio papà c'era poco perché se c'era di più era meglio mentre il papà meno ci stanno meglio è tanto per cominciare vabbè morale dopo che è stato qualche mese in analisi e dopo questa cosa succedeva la cosa pazzesca è che lei quando viaggiava in albergo perché a me viaggiava molto lei non aveva questi attacchi di panico notturni allora è venuta da me una volta perché non stava bene e io le dissi questa cosa signora si ricordi che l'inconscio non sbaglia mai non sbaglia mai se ci arrivano se ci arrivano delle paure improvvise l'inconscio ci sta portando da qualche parte prova a pensare che nei tuoi disturbi nei tuoi disagi ci sono segreti profondi profezie che stanno arrivando qualcosa che ti sta dicendo delle cose pezzi di te che non stai usando che non stai utilizzando tu stai male non perché sei sbagliato ma perché non stai utilizzando l'ansia il pane la depressione perché non stai utilizzando delle energie che ti appartengono perché stai sbagliando pianta non stai facendo la rosa se sei la rosa invece fa il tulipano vabbè morale lei una notte si sveglia nel cuore della notte sempre con quest'ansia e lui vede che lui non è nel letto dopo che avevano fatto l'amore lei abita in una casa dove ci sono le scale scende giù e vede che lui sta frugando nei cassetti e sta cercando di guardare fra le sue biancherie in intima tra le cose cosa fai? lui dice no stavo controllando se magari ti ha messo delle micro spie morale per liberarsi da questo uomo che era uno stalker ci sono voluti tempi, denunce eccetera ma l'anima si era accorta che lei stava con uno che le piaceva ma che aveva una mente criminale ecco il panico quindi l'anima l'avvisata noi dobbiamo interare via il panico ad ascoltare ad ascoltare quella vocina che spesso mettiamo a tacere e di volta in volta bravissima di volta in volta a domani grazie professor Morelli buona giornata a tutti